Io mi ricordo il Sant'Alessio, la città di Lucca. Mi sono divertito lì, una volta si poteva giocare solo, si cominciava a giocare a dieci anni. Prima si giocava per i campi, io ero fortunato, stavo a campagna, giocavamo e giocavo a pallone nei campi del mio paese. Poi a dieci anni sono stato nella squadra del mio paese e lì ho cominciato a giocare e mi divertivo tanto, perché mi piaceva, ho passione, come tutte le cose, quando le fai con passione, tutte le cose che fai da fare con passione, concluono e ottieni dei risultati, perché se non ci sono quelli, queste componenti non riesci a fare niente. E come mi sono divertito da piccolo, poi mi sono divertito sempre meno, perché quando cominci a giocare da professionista ti piace perché è il lavoro che, cioè lo sport che è sempre fatto e sono riuscito a fare tanti anni di professionismo e ho avuto la fortuna di incontrare Massimiliano Allegri qualche anno fa e sono, credo, 16-17 anni che collaboro con lui, ho la fortuna di collaborare con lui. Lui è uno molto bravo e sono stato un po' più fortunato perché sono iniziato con lui, e sicché è andato bene lui, sono andato bene anch'io. E niente, la cosa più importante è avere la passione di...